Torna Roberto Bolle sul palco dell'Ariston dopo aver danzato in apertura. Vestito elegantemente parla della danza e dei suoi desideri realizzati. Grandissima responsabilità e grande orgoglio rappresentare il nostro paese all'estero. L'Italia è conosciuta nel mondo per le sue eccellenze e bellezze ed è un motivo di orgoglio, dice Bolle, su Nureyev. Mi scelse per morte a Venezia. Non potei fare quel balletto con lui, ma l'essere scelta dal mito della danza fu la consapevolezza che la danza sarebbe stata la mia vita. Allenamenti per curare il fisico? Tante ore di allenamento, 6-7 ore, non bevo, non fumo. Tanti sacrifici, ma il privilegio di aver realizzato il mio sogno. E in chiusura un momento divertente ed ironico con Virginia Raffaele, insieme all'imitatrice Balla la nottevola della Cuccarini, dimostrando anche spirito umoristico. E in chiusura un'imitatrice Balla la nottevola della Cuccarina.